Fee TV, TV di comunità! Credo che il consumo di famiglia sia cambiato, anche perché credo che la gente sia un po' disorientata al consumo. C'è uno stress, no? Oggi i grandi centri commerciali espongono mille prodotti, mille tipologie, stesso identico prodotto con diversi prezzi e diversa qualità. Oggi la gente non sa più cosa mangiare fondamentalmente. C'è questo problema qui, siamo abituati al fatto che ormai al supermercato, se ci serve a me una bistecca, appena una fettina di vitello, a quell'altro un cucchiaio di pollo, è sempre tutto pronto, in formato standard. Si sono rafforzati delle tendenze, mi sembra che le famiglie non abbiano mai smesso di acquistare cibi pre-confezionati, surgelati, eccetera, eccetera. Adesso siamo abituati a scendere al supermercato e trovare tutto o usare qualsiasi prodotto senza nemmeno leggere quali sono gli ingredienti, diciamo. Quindi non c'è più attenzione nell'acquisto di qualsiasi prodotto utile per la casa, diciamo, per la quotidianità. Grazie.